Ciao a tutti e benvenuti qua nel canale. Oggi abbiamo un argomento super interessante di cui vi voglio parlare, un'invenzione che sembra uscita direttamente da un film di fantascienza. Parliamo sempre di droni, un nuovo drone, Madencina, un drone che sicuramente vi incuriosirà in modo incredibile quando ora ve lo andrò a raccontare. In una giornata, come vedete, di bellissimo sole qui in Toscana, dopo alcuni giorni di brutto tempo, come un po' è successo in tutta l'Italia, oggi si sta davvero decisamente bene. Io faccio questa passeggiata virtuale e vi racconto questa cosa. Ma la domanda che mi sorge spontanea è questa. Se vedono un drone che svolazza per aria o subito arrivano a rompere che noi dronisti violiamo la privacy. Ma la privacy di che? dire. E ora con questo drone voglio vedere come faranno a accorgersene, come faranno. Spunto molto interessante e drone innovativo che vi racconto ora. Ma prima spero che possiate seguire il mio canale per sostenere quello che faccio qua con una semplice iscrizione. Se volete, è facile qua sotto, iscriviti. Se volete poi un like al video sarebbe fantastico. Si inizia. Questo che voglio raccontarvi adesso non è un drone qualunque. Sto per raccontarvi il Little Falco o Piccolo Falco, l'ultimo gioiello tecnologico partorito direttamente dalla Cina. Un paese che non smette mai di realizzare innovazioni continue, ovviamente, che arrivano appunto dal paese cinese che ci porta sempre prodotti interessanti. Ovviamente, su tutti, parlando di droni, DJI con i suoi fantastici prodotti per volare. Immaginate un dispositivo che vola, non con le eliche, come i droni a cui siamo avituati, ma come? Semplicemente battendo le ali. Sì, avete capito bene. Battendo le ali, come fa un uccello. E questo è il frutto di ricerche avanzate nel campo della bionica, condotte da alcuni dei principali produttori del paese in collaborazione con la Northwestern Polytechnical University di Xi'an e altre società cinesi. Quando ho visto le immagini di questo drone, non riuscivo proprio a credere che realmente fosse un drone, che veramente quello che vedevo era un drone. Mi sembrava un comune uccello, un uccello che svolazzava per il cielo. La sua agilità incredibile, la capacità di compiere manovre che fino a poco tempo fa avremmo considerato impossibili per un oggetto volante di origine non umana, comunque non viva, non reale, ma un oggetto diciamo tecnologico. Io qualche anno fa avevo fatto un video su un drone di questo tipo e lo avevo raccontato nel mio canale, qua. Lo potete recuperare, ma era molto molto diverso da questo. Si vedeva decisamente che era un oggetto totalmente finto, falso. Volava, si vedeva in volo, ma era finto. Ma il piccolo falco può piegare le ali in volo, regolare la velocità del battito, piegare un'ala indipendentemente dall'altra e persino bloccarle entrambe per andare a planare. Tutto questo grazie a un meccanismo innovativo che imita il movimento naturale degli uccelli. Intanto voglio farvelo vedere così anche voi vi rendete conto quello che vi ho appena detto, che è tutto vero e vi renderete anche conto quanto davvero sia reale questo oggetto. È incredibile. Guardate. Beh, insomma, mi pare che sia decisamente impressionante. Cioè io, è difficile distinguere che, se non ce lo dicano, è quello è un drone e non un uccello. È un oggetto, diciamo, tecnologico. Ma cosa rende questo drone così speciale, oltre alla sua evidente abilità di volo? Beh, il primo luogo è il suo aspetto, ovviamente, e il suo comportamento in volo, che lo rendono, appunto, praticamente indistinguibile da un vero uccello. Specialmente se è un po' più lontano, magari se si avvicina, sicuramente si vedrà. Questo non solo è affascinante dal punto di vista tecnologico, ma anche imprenazioni pratiche e significative. Ad esempio, le cose peggio, ovviamente, ovvero gli scenari militari, di cui siamo continuamente circondati in questi ultimi tempi, ma anche la sorveglianza. Un drone che può mimetizzarsi così bene nell'ambiente che lo circonda, naturale, rappresenta un vantaggio notevole per queste due cose che vi ho detto. E non è tutto. Questa tecnologia apre anche possibilità incredibili per la ricerca ambientale e la protezione della fauna e anche di tutta la parte degli uccelli selvatici. Pensate, noi possiamo usare un drone per monitorare, ad esempio, gli animali e l'ambiente senza disturbarli, perché si integra perfettamente nell'ambiente circostante. E, perdonatemi se ve lo dico, in questo caso, se questo drone diventerà commerciale, non potranno più dirmi nulla se voglio volare in un parco, perché l'unica scusa che disturbo gli animali, io con questo volo, faccio le mie riprese e non disturbo nessuno. Dunque, addio il blocco dei parchi a droni se si usa questo qua. Adesso immagino che alcuni di voi possono avere giustamente delle perplessità, perché la cosa è abbastanza particolare. Sì, è vero, questo drone è nato, mi pare di aver capito, in un contesto militare, ovviamente, come sempre. Eh sì, c'è sempre il dibattito sull'uso delle tecnologie avanzate per scopi bellici. Ma non dobbiamo dimenticare anche una cosa, andando a vedere la storia, che molte innovazioni che oggi usiamo nella vita quotidiana hanno origini simili. Quello che conta è come scegliamo di utilizzare queste tecnologie, ovviamente, in futuro. E si spera che se funzionerà e sarà interessante sia usato nel modo non distruttivo, ma costruttivo, ovviamente. Come accennato nella intro, un altro aspetto è quello legato alla privacy, alle norme, ovviamente, che fanno sì che un drone sia sempre enfatizzato come diavolo. Se uno vede un drone che svolazza sulla testa e subito arrivano a rompere noi dronisti, andiamo a violare la privacy. Come se un telefonino, un action cam o altro, non facciano più nemmeno quello che fa un drone. Io non capisco questa fobia che hanno i droni. Scusate, ma è così. Ora, questo prodotto sarà immune da occhi indiscreti e chi di solito vede un drone e si scandalizza per le violazioni, beh, questo o lo vede, o lo vedrà, o fa rumore. Si scambia per un ocello reale che vola e poi fa riprese, fa foto. Stiamo ovviamente parlando di un drone questo non consumer, sottolineo non consumer, ma se iniziano a volarci sulle teste, magari per vari scopi, questi sì che possono violarla la privacy. Altro dei nostri piccoli droni che sono visibili e non attaccano spesso nessun tipo di privacy in assoluto, niente. Beh, queste sono mie considerazioni personali, prendetele per quello, spero e l'appreziate. E che dirvi, il piccolo falco è ancora in fase di sviluppo e ci sono sicuramente molte prove ed errori da sistemare da parte ovviamente degli sviluppatori. Ma una cosa è sicura, stiamo assistendo a un momento di potenziale rivoluzionamento della tecnologia, ma soprattutto anche dei droni. E le possibilità, come potete immaginare, diventano abbastanza grandi, infinite, direi. E voi cosa ne pensate? Siete affascinati da questa tecnologia oppure no? Ditemelo ovviamente qua nei commenti sotto il video. Io accetto sì, no, ognuno è giusto la pensi o mi crede meglio. Vi ringrazio per avermi seguito in questa mia passeggiata tecnologia, una giornata bellissima in Toscana. Non dimentiate di lasciarmi un like se questo video vi sarà piaciuto e iscrivetevi ovviamente al canale per non perdervi i prossimi miei racconti. Alla prossima, amici miei, dai Bighe, dalla Toscana è tutto. Ci si vede.